Buongiorno a tutti, Roberto Pudu, Accente Immobiliare, Remax, questo è un promo, un promo immobiliare. Guardate, sto innaffiando il giardino di quella che potrebbe essere la vostra prossima casa, perché un giardino del genere, con una casa del genere, ce l'abbiamo in pubblicità. Seguitemi nelle pagine professionali, Roberto Pudu, Accente Immobiliare, sia Facebook che YouTube, così scoprirete cosa tutto si può fare in questa villetta. Questa fantastica, Pula, Ismorus, unico livello e giardino a go-go, tra poco in vendita. Posso vendere anche la tua?